Risultato ad occhiali, quello tra Cosenza e Savoia, partita a double fast con i calabresi che dominano nel primo tempo sfiorando in diverse occasioni il vantaggio ed i bianchi che invece disputano un'ottima seconda frazione di gioco. Sbaglia tantissimo, come dicevamo, la formazione silana, grazie anche ad un paio di interventi prodigiosi di Gragnaniello. Il primo al diciottesimo sul tiro angolatissimo di Fornito, il secondo al ventiquattresimo sulla botta di Tortolano. Nella ripresa tocca al collega Ravaglia, dall'altra parte del campo, guadagnarsi la pagnotta. Pronti via e deve respingere il tiro Verruschi. Al tredicesimo splendida l'azione degli ospiti, da rivedere però la mira di Ferrante. Peggio fa al trentunesimo Tortolano, che si divora così il vantaggio. Al trentasettesimo è ancora il portiere ospite a sbarrare la strada agli attaccanti silani. In pieno recupero Tortolano sbaglia tutto. Di piazza fallisce la rete della possibile vittoria napoletana. Al San Vito finisce 0-0.